Sanità, ultimi ritocchi per il centro vaccinazione realizzato a Saluzzo nell'area dell'ex Foro Boario. L'obiettivo è rispettare i tempi per avviare le vaccinazioni dalla giornata di lunedì 12 aprile. Nel 2020 per le tre delegazioni cunesi del soccorso alpino 32 interventi in più rispetto al 2019 nel bilancio degli ultimi mesi di attività incremento proporzionato in tutto il Piemonte. Nell'attesa che il Piemonte torni in zona arancione abbiamo fatto il punto con Martiniana Po dalle terre che per prime settimane fa tornarono in zona rossa. Sabato 10 aprile banchetto a Mondovio ebreo per la petizione di Mondovivo. Lo scopo è trovare una nuova location per il progetto del polo logistico dalle aziende dell'area interessata, il perché della petizione. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegranda. In apertura di questa edizione la buona notizia. C'è anche il Piemonte tra le regioni che dalla prossima settimana tornano in arancione sulla base dei dati del nuovo monitoraggio del Ministero della Salute. La fiducia del Governatore Alberto Cirio sarebbe stata ripagata ma manca ancora l'ufficialità. Sembra comunque ormai certo il cambio da martedì di colorazione. Che cosa significa? Negozi aperti, anche quelli di abbigliamento, non solo quelli per bambini ma anche per gli adulti, soprattutto parrucchieri ed estetisti nuovamente aperti. Scuola in presenza per i bambini, i ragazzi che frequentano la scuola media prima e seconda, ma anche la terza media tornerà in presenza, le superiori invece avranno il 50%, cioè per metà in didattica distanza e per metà in presenza. Vediamo a questo proposito quali sono i numeri che hanno portato a questa decisione. Nelle ultime 24 ore hanno sicuramente contribuito i dati registrati dall'unità di crisi della Regione Piemonte. Vediamo dunque dai grafici quali sono i dati relativi ai decessi delle ultime 24 ore, più 37 in Piemonte di questi 7 sono della provincia di Cuneo. I contagi sono più 1.1798 a livello regionale di questi, 260 vengono dalla provincia di Cuneo. I ricoverati scende il numero di quelli in terapia intensiva, meno 17 per un totale di 329 ricoverati, in terapia non intensiva meno 90 rispetto a ieri, in isolamento domiciliare meno 599. I tamponi effettuati sono 29.218 da ieri, più 5.006 rispetto appunto alle ultime 24 ore. Ed ora i guariti in Piemonte sono 287.657 più 2.471 solo nella giornata di ieri, di questi 397 sono della provincia grande. Ora che abbiamo guardato i dati vediamo anche qual è la situazione vaccinazione. Come detto nelle scorse giornate ed edizioni sono molti i punti realizzati proprio per accogliere le cosiddette vaccinazioni di massa a Saluzzo quasi definitivamente operativa. Il punto vaccinale realizzato nell'ex foro Boario, l'obiettivo è quello di partire con le vaccinazioni da lunedì. Sindaco Calderoni, dietro di noi vediamo gente che lavora e il cartello Saluzzo si vaccina perché qui dove ci troviamo ora al Palacio in Resa, al foro Boario, stanno per partire le vaccinazioni. Come avete lavorato per strutturare questo posto? In realtà le vaccinazioni a Saluzzo sono partite all'inizio dell'anno ma si svolgono nei locali dell'ospedale. Abbiamo pensato che questo luogo fosse ideale per dare una spinta ulteriore all'azione vaccinale, molto ampio, coperto, riscaldato, ben illuminato, con la linea dati, il parcheggio molto capiente, comodo per il centro cittadino e anche per chi viene da fuori. L'abbiamo proposto a Regione Piemonte e ASL ormai circa due mesi fa, quando abbiamo capito che potrebbe essere una soluzione gradita abbiamo incominciato l'allestimento che è ormai completamente terminato, si stanno trasferendo gli arredi dai magazzini dell'ospedale e stiamo sistemando la cartellonistica. Credo, come detto dall'ASL, che lunedì si parta. È un'operazione importante per facilitare le operazioni di vaccinazione ma dà anche il senso, secondo me, e spero di essere riuscito a trasmetterlo, di una comunità coesa e attiva che di fronte alle difficoltà si compatta, si unisce, trova delle risorse straordinarie e fa delle proposte concrete per fare la propria parte in un contesto effettivamente molto difficile. Sarà un circuito molto ben strutturato, anche molto oliato, insomma. Noi ci siamo attenuti alle indicazioni che abbiamo ricevuto dai tecnici dell'ASL e abbiamo realizzato questi stand alle mie spalle. In ogni stand ci sono due linee vaccinali, poi ci sono dei locali magazzino, dei locali spogliatoio, un locale mensa, ci sono dei locali per la preparazione dei vaccini, delle postazioni di attesa pre-vaccino, delle postazioni di osservazione post-vaccino e poi un ufficio per il ritiro del certificato e per la prenotazione della seconda dose. Oltre 500 parcheggi asfaltati qua fuori, pensiamo che logisticamente e organizzativamente sia una soluzione ottimale che può dare una mano ai medici che si stanno impegnando molto in questa difficile campagna vaccinale. Anche perché lo ribadiamo ancora una volta, noi lo facciamo quotidianamente, che il vaccino è l'unica strada per uscire da quest'incubo. Io personalmente ne sono convinto, i consiglieri comunali medici me lo confermano, gli amici medici me lo confermano, l'entusiasmo anche delle realtà economiche che vedete alle nostre spalle rappresentate, hanno messo nel raccogliere la mia proposta di contribuire a questo progetto, dimostrano che la gran parte della popolazione, io spero che si arrivi presto a tutta la popolazione, credono che questa sia la soluzione per poter tornare a una vita normale. Come avete potuto vedere, anche nei giorni scorsi il territorio si è preparato per portare a termine le cosiddette vaccinazioni di massa. Il problema dipende dalla presenza e dalla garanzia di avere i vaccini. Pare purtroppo che fino a maggio non siano previste nuove forniture del vaccino moderna e non ci saranno massicci arrivi di Pfizer e AstraZeneca. Questa è la situazione mentre quasi tutto il territorio sta per avviare le vaccinazioni delle persone dai 70 agli 80 anni e 60 e 69 anni sono già state aperte le iscrizioni. C'è stato anche un piccolo tilt del sistema che è stato istituito dalla regione Piemonte per cercare di migliorare la possibilità di prenotarsi, ma fortunatamente nel pomeriggio è stato risolto e già oltre 6.000 piemontesi sono riusciti a prenotarsi al servizio. Parliamo di persone che hanno fra i 60 e i 69 anni. Sarà necessario però cercare di garantire l'arrivo dei vaccini. Oltre il 13% dei residenti in granda è coperto da almeno una vaccinazione. Vuol dire che però ce n'è una gran parte che aspetta ancora la seconda dose. Dunque il livello richiesto, la percentuale richiesta per ottenere la cosiddetta immunità di gregge è ancora lontano. A proposito di zone, noi torniamo in una di quelle che è stata fra le prime zone nuovamente rosse del Piemonte quando c'è stato il picco della terza ondata. Siamo a Martignana Po. Ora il Piemonte è in zona rossa, ma c'è una zona, un territorio della Granda che è la Valle Po, che era già entrata in zona rossa diversi giorni prima. Come avete vissuto quei giorni in zona rossa anticipata? Abbiamo vissuto non bene sicuramente. Noi il nostro paese all'inizio della zona rossa della Valle Po erano 16 su un paese di 780 abitanti, erano 16 contagiati. Adesso si sono ridotti parecchio, sono solo più in sei. Quindi speriamo che almeno diventa poi, la prossima settimana, speriamo che diventa zona arancione e così siamo un po' più liberi di circolare. Comunque ringrazio anche i cittadini che si sono comportati molto bene, hanno osservato le leggi e basta. In generale sono scrupolosi osservanti delle regole i suoi cittadini che le amministra? Sì, 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 molto scrupolosi, sono gente, poi in tutti i paesi c'è anche le pecore nere che eventualmente non si comportano conforme le regole, però il 99% sono gente che si comportano bene. Quando è scattata per la Valle Po la zona rossa anticipata c'erano comuni che presentavano casi in numero più elevato del vostro? Sì, c'era il comune di San Frondi, di Paesana, comune anche di Revello che erano parecchi i contagiati, quindi sono paesi anche più grandi che hanno le case di riposo e quelle case di riposo sicuramente hanno più possibilità di contagiarsi, sono anziani. E l'augurio ovviamente di uscirne il prima possibile anche grazie ai vaccini? Sì, speriamo, adesso faranno i vaccini ai più anziani e poi adesso stanno già programmando i vaccini dai 70 ai 79 anni, quindi dovremo sicuramente migliorare tutti. Non avevano ancora avuto la certezza del rientro in classe anche per i ragazzi della terza media, comunque scenderanno in piazza lo stesso i genitori che stanno chiedendo di ripristinare un normale servizio scolastico anche per i ragazzi della terza media. Una lettera è stata inviata anche a firma dei genitori direttamente al presidente Draghi per cercare di sollecitare l'attenzione del governo sui problemi causati dalla chiusura delle scuole. Di fatto se ne è parlato anche e soprattutto a livello psicologico, sono molti disagi registrati dagli adolescenti, soprattutto quindi i ragazzi interessati dal provvedimento di chiusura in questi nuovi mesi di lockdown scolastico, sono quintuplicati i ricoveri sia in psichiatria che in pediatria, più o meno in tutto il territorio nazionale, lo è stato confermato, questo dato anche sul territorio dell'Asla CN1. A proposito di sanità parliamo anche di sanità edilizia, in questo caso arrivano buone notizie, importanti investimenti sarebbero stati garantiti dall'INA per il futuro e comprendono per la prima volta anche strutture ospedaliere e progetti importanti. Sei in tutto il Piemonte, due sono della Granda, uno è Savigliano. Sei nuovi ospedali, più la conferma per due ospedali già in programma per un investimento complessivo di 1 miliardo e 642 milioni di euro. Il nuovo DPCM sugli investimenti dell'INAIL accoglie tutte le richieste della Regione Piemonte nell'ambito dell'edilizia sanitaria sul territorio regionale. Compaiono per la prima volta nei piani di investimento immobiliare dell'INAIL i nuovi ospedali dell'Asla CN1 che prevedono investimenti pari a 310 milioni di euro per il nuovo ospedale unico di Cuneo e 195 milioni di euro per quello di Savigliano-Saluzzo-Fossano. Per quanto riguarda il nuovo ospedale di Cuneo, per il quale l'ipotesi più concreta sembra quella di realizzarlo, dove ora sorge il Carle, l'ipotesi dei cantieri di 11 anni di lavoro è almeno 207 milioni di euro di spesa. Cuneo è l'unica struttura provinciale, Savigliano sarebbe territoriale e l'obiettivo è raggiungere gli standard di Mondovi e Verduno. Nei giorni scorsi si è riunita la commissione dei 54 sindaci del territorio di riferimento dell'ospedale, cui tre sindaci di Fossano, Saluzzo e Savigliano hanno confermato di proporre la costruzione del nuovo ospedale alle porte di Savigliano, lungo la direttrice per Saluzzo. La spesa prevista supera i 170 milioni di euro. In tutti questi casi la realizzazione delle opere sarà totale carico dell'INAIL, fermo restando che a questi progetti si aggiungeranno quelli finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale, sui quali si sta contestualmente lavorando. E' il risultato di quasi due anni di intenso lavoro con i vertici dell'INAIL e il Ministero, ha commentato l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi. Gli investimenti dell'Istituto avvalorano la bontà del nostro piano di edilizia sanitaria e ci consentiranno di procedere con celerità nelle realizzazioni di nuovi ospedali che sono di vitale importanza per la sanità piemontese. Abbiamo bisogno di strutture nuove, tecnologiche e con spazi adeguati, capaci di rispondere alle esigenze emergenti. Sarà il procuratore magistrato monregalese Ezio Domenico Basso ad occuparsi delle indagini avviate ad Oristano per l'accessione di vaccini a parenti amici che avrebbero scavalcato nelle liste dei pazienti fragili. Un'indagine condotta dai carabinieri del nucleo antisofisticazione, i cui risultanze sono state proprio consegnate in procura ad Oristano nelle mani del PM di origini monregalesi che dovrà verificare se effettivamente ci siano state delle attività illecite nella gestione dei vaccini Pfizer in provincia di Oristano, scavalcando anche quelle che erano le liste delle persone più fragili e che avevano sicuramente diritto di prelazione sulla somministrazione del vaccino. Nella cronaca parliamo anche dei disordini recentemente denunciati, ancora una volta da Corso Giolitti, dal quartiere di Corso Giolitti, una situazione più volte denunciata anche attraverso le nostre telecamere. Vediamo che cosa è successo nei giorni scorsi. Uno dei problemi di cui si parla molto da sempre a Cuneo è la sicurezza in Corso Giolitti, Tu, Young, sei stato protagonista, a tuo malgrado, di un episodio proprio di mancata sicurezza nel giorno di Pasqua. Che cosa è successo nel tuo bar? Sì, praticamente il giorno di Pasqua, diciamo che dopo un diverbio con un cliente, semplicemente facendo notare una piccolezza dopo il servizio del cappuccino, questa persona qua praticamente ha lasciato i pezzi di scarto, delle bustine, quelle cose lì sul banco, mia mamma ha fatto notare che il cestino è laggiù. Da lì è partito un diverbio da cui è nato che noi siamo dei razzisti, che non so dove arriva questa cosa perché è impressionante. Io sono stesso straniero, razzismo non so cosa sia in questo caso. Dopodiché si sono sopraggiunte altre persone che non centravano niente con la situazione e si sono messe di mezzo. Dopo il diverbio ho chiuso la finestra, sono andati via. Dopo due minuti è ritornato uno dei tizi con due bottiglie vuote della Moretti, non so dove si abbia recuperata, e ha iniziato a spaccare tutta la vetrata qua. Dopodiché io ho cercato di chiudere la finestra, vedendo che chiudeva la finestra, trovandosi il collo della bottiglia ancora in mano, me l'ha voluto lanciare. Io per autodifesa ho alzato la mano e ho riportato tre punti di sutura, per fortuna, perché se non avessi messo la mano mi potrebbe arrivare sull'occhio e il danno sarebbe molto più grande. Dopodiché sono intervenute le forze del nord, perché ho già chiamato, sono arrivati, mentre sanguinavano ho chiamato l'ambulanza, hanno fatto tutto la prassi della situazione. Questo episodio spiacevole è servito anche come appiglio per chiedere ancora una volta più sicurezza da parte tua e anche di tanti altri che hanno realtà commerciali qui in Corso Giolitti. Sì, perché purtroppo questa zona qua di Corso Giolitti, soprattutto l'ultimo tratto, perché Corso Giolitti è abbastanza lungo e sarà a meno 500 metri, però nell'ultimo tratto di 150 metri la situazione veramente sta diventando pesante, soprattutto col bel tempo che sta per arrivare. Le persone si trovano qua a bere, a bivaccare, a stare tutto il giorno qua senza avere uno scopo. Questa situazione dura già da un paio d'anni almeno e sta peggiorando sempre di più. Noi commercianti e residenti purtroppo ogni giorno rischiamo, perché non sappiamo cosa succede con queste persone qui. E quindi ho sentito anche l'assessore rasserale. Ho segnalato la cosa all'assessore serale che ti ha risposto. Sì, ho segnalato la problematica a lui, si è interessato personalmente e la ringrazio moltissimo per l'interessamento. Ha detto che ci sarà sicuramente un rafforzamento dei controlli e ci sarà un controllo in più in generale per risolvere questa problematica qua. Nella cronaca di oggi c'è anche il bilancio di un anno di attività del soccorso alpino speleologico piemontese. Ovviamente un anno a livello regionale di attività, ma che è stato segnato da un importante incremento di richieste di intervento. Poi per non tutte le richieste è stato necessario avviare una cosiddetta missione, ma il dato è significativo, fa pensare soprattutto ad un riferimento alla montagna decisamente più alto rispetto agli anni precedenti, proprio a causa delle limitazioni che hanno impedito di andare altrove in alcuni mesi dell'anno. Una situazione comunque molto ben gestita dal soccorso alpino speleologico piemontese. Il 2020 è l'anno in cui il soccorso alpino speleologico piemontese ha ricevuto il più alto numero di richieste e di interventi. Le misure di contenimento del contagio hanno di fatto proibito o fortemente limitato le escursioni, però si registrano oltre 2.000 eventi gestiti, oltre 1.000 missioni effettuate e 1.512 persone soccorse. In media sono 6 chiamate al giorno tutto l'anno. Quelle provenienti dalle aree montane vengono trasferite dalla centrale del NUE 112 a quelle del soccorso alpino operativo H24 a Grugliasco. Una media di 6 al giorno, con picchi nei mesi estivi di 10-15 interventi quotidiani. In un sabato di luglio sono arrivati sino a 26. L'incremento delle chiamate, dicono dal soccorso alpino, si spiega con un miglioramento delle infrastrutture telefoniche mobili che consentono di effettuare una chiamata di emergenza anche dalle aree più remote. Nel 2020 il 35% delle chiamate ricevute dalla centrale operativa sono state risolte senza avviare un'operazione vera e propria. Il restante 65%, circa 1.300, un record storico, ha richiesto invece l'attivazione di una missione di soccorso. Gli interventi vengono condotti in due modi, con il supporto dell'eliambulanza 118 oppure esclusivamente dalle squadre a terra. Nel 2020 l'elicottero è intervenuto nel 72% delle emissioni, segnando una diminuzione rispetto all'80% che si era registrato nel 2019. Le persone soccorse sono state 1.512, di cui 656 recuperate esclusivamente dalle squadre a terra, contro 856 recuperate in elicottero. Rimane centrale il ruolo di presidio del territorio montano da parte delle 54 stazioni di SASP dislocate in tutte le principali valli alpine e appenniniche del Piemonte. Solo la delegazione di Mondovì ha 101 operatori tecnici distribuiti nelle stazioni di Mondovì, Garessio e Valle Pesio. Delle 1.512 persone soccorse nel 2020, 417 erano illese, 1.018 ferite, 77 decedute. Nella giornata di oggi è stato proposto, una proposta che verrà poi valutata dall'Assemblea degli Associati di Confindustria a giugno, è stato proposto che il Presidente Mauro Gola, in scadenza di mandato, come è previsto ogni 4 anni, resti ancora per altri due anni. La proposta è stata fatta proprio in virtù anche della situazione di pandemia in cui si trova tutto il territorio per cercare di portare avanti la politica attivata nel corso degli ultimi mesi. Sarà, come detto, l'Assemblea degli Associati, convocata a giugno, a decidere quanto proposto nella giornata di oggi. In questa edizione, cambiamo argomento, torniamo a parlare di quella che è la manifestazione di protesta attraverso una raccolta firme che ha già superato le 2.000 firme ed è stata avviata dal Comitato Mondovivo. Ne avevamo parlato già nelle scorse settimane. Il Comitato è nato nelle campagne che si trovano fra Breolungi e Roccadebaldi alle porte di Mondoville e campagne dove si vorrebbe far sorgere sono più che altro dei campi dove si vorrebbe far sorgere il nuovo polo logistico per l'interscambio delle merci. Un progetto sicuramente importante e sicuramente utile per il territorio ma che nel caso specifico andrebbe a distruggere completamente un'importante area di campi coltivati e anche aziende agricole. Ce n'è una, in particolare, zootecnica, che verrebbe completamente cancellata dal progetto. La petizione portata avanti dal Comitato Mondovivo per chiedere un nuovo sito per la realizzazione del polo logistico ha superato le 2.000 firme. Fra queste c'è anche quella del climatologo Luca Mercalli. Il 10 di aprile il Comitato è tornato in piazza per chiedere una nuova location. Il perché lo spiega chi vive in zona. Proprio questa fattoria dovrebbe, se si realizzasse il polo logistico, scomparire del tutto. E questo mi dispiace perché sono io ho lavorato una vita qui e adesso vuoi continuare a lavorare finché posso qui in un'attività finché posso vuoi lavorare. Un domani andrò in pensione e eventualmente il mio figlio volesse continuare qui potrebbe, invece questo non sarebbe più possibile. E questo mi dispiace proprio tanto. ecco, fra l'altro le hanno fatto qualche proposta o per il momento ancora nulla? No, per il momento ancora nulla, per adesso niente, però siamo preoccupati. Questa terra continua a essere coltivata o da mio figlio o da altri, questo non ha importanza, però non c'è mentificato, questo è importante. Questa azienda è l'azienda di famiglia, quella di suo padre, lei in particolare è nato quando quello che vediamo alle sue spalle era già stato costruito, quindi lei ha sempre visto questo territorio deturpato, ora che cosa pensa del fatto che vorrebbero allargarsi ancora? Sì, io da quando sono nato ho sempre visto questo e il fatto è che mi dispiace moltissimo perché mio papà dovrebbe andare in pensione, io penso, spero, non so, mi piacerebbe prendere la sua parte e continuare questa attività in questa azienda che era di mio nonno o era di mio papà, però a questo punto non si è più sicuri di tutto ciò, se la costa si potrà andare avanti o no, ci sono molte idee, molti progetti, il fatto di andare avanti, trasformare i prodotti, come diceva Paolo prima, uno spaccio, non si sa. Secondo voi questa terra deve restare dedicata alla coltivazione all'allevamento o non deve essere cementificata, è così? Questa zona deve restare per l'allevamento, niente cemento, andiamo avanti con ciò che si è fatto in questi anni, con l'agricoltura, con la campagna, con l'allevamento, con i prodotti, ora si parla di prodotti bio, si parla di prodotti chilometro zero e questo ciò che serve a noi e serve a tutti, non solo a noi per mantenere quest'area, per mantenere tutto, quell'equilibrio ambientale che abbiamo. Oltre alla raccolta firme voi avete anche incontrato dei politici, vi sembra che ci sia un'apertura? Più o meno, non tanto, da parte sì, a quel partino, quello sembra che dia un po' fastidio alla gente, da un po' di fastidio. Ed ora parliamo anche di notizie positive da un punto di vista di lavoro, l'ANAS ha completato la prima fase di ripristino delle superfici sul ponte dell'Olla, siamo in Vallestura, lungo la strada statale 21 della Colle della Maddalena, le operazioni le vedete nell'immagine che stiamo trasmettendo in onda, le attività hanno interessato il rivestimento superficiale dell'infrastruttura e quanto spiegano nella nota dall'ANAS al deterioramento per l'azione combinata dalle miscele saline utilizzate in inverno per il trattamento del piano viabile degli agenti atmosferici. In vista della prossima fase di restauro conservativo, attualmente in fase di progettazione, i tecnici hanno eseguito il consolidamento del rivestimento in pietra della campata che sovrappassa la strada locale lato Gaiola e dal cordolo del largo lato Borgo San Dalmazzo. Ed ora andiamo a parlare di sport in vista dei playoff di domenica per la BAM San Bernardo a spiegare quale sarà la preparazione di questi ultimi giorni e l'opposto Wagner. In collegamento Skype l'opposto della BAM San Bernardo Cuneo Wagner parliamo con te della partita di domenica una partita importante che aspettavate da tanto tempo ecco ti chiedo quanta voglia c'è di scendere in campo per giocare questo incontro così importante? Sai non vedevamo l'ora di fare una partita officiale dopo tre settimane di stop guardare tutti gli altri che giocano noi che siamo a casa ogni fine settimana che non facciamo niente non era ben niente facile dai sono molto contento non vedo l'ora non vedo l'ora di arrivare domenica è da un po' che ho già la testa in questa partita sono anzioso per arrivare domenica alle 5 e iniziare i playoff ecco che partita ti aspetti saranno i playoff insomma sono complicati lo sappiamo Reggio Emilia è un avversario Tosto che partita sarà secondo te allora sicuramente le squadre che abbiamo visto in campionato sarà completamente diversa sia dalla parte nostra come dalla parte loro i playoff si vinci va avanti si perdi è finita la stagione quindi ogni paloni è una lotta si va si va lì per lottare e quindi io mi aspetto una squadra veramente tosta più da quello che abbiamo trovato nel campionato sarà comunque una partita difficile avrà tanta ansietà sia dalla nostra parte che da parte loro però comunque dobbiamo essere bravi essere in campo concentrati e fare una bella partita riuscire a vincere questa prima partita in casa dei playoff certo queste settimane tu hai detto di attesa insomma hai voglia di scendere in campo però vi sono servite per allenarvi per curare qualche dettaglio qualche particolare ed anche per prepararvi fisicamente a questo rush finale sì sicuramente sì abbiamo fatto un bel lavoro queste tre settimane abbiamo cercato di sistemare delle piccole cosine che non stavano andando bene mi sa che siamo già pronti si vedrà veramente una squadra più forte un'ultima cosa tu sai un po' come si vince perché hai vinto già l'anno scorso una competizione importante come la Coppa Italia insieme ad altri tuoi compagni che sono anche con te adesso a Cuneo ecco cosa fa la differenza in queste partite cosa serve a Cuneo domenica per iniziare questo percorso e sognare insomma allora dalla mia esperienza quello che dobbiamo fare sicuramente è luttare per ogni palone perché qui si vede la voglia la grinta quando queste cose vengono fuori la partita diciamo è un pochettino più tranquilla perché si vede che c'è in campo una squadra che vuole veramente vincere perché ogni palone è veramente importante in playoff perché è lì che si fa la differenza e con lo sport siamo arrivati in chiusura di questa edizione del telegiornale grazie per averci seguito arrivederci a presto